Erano specializzati in furti di bici da corsa e mountain bike, i 5 sudamericani che la polizia stradale di Venezia ha denunciato, sgominando così la banda che imperversava sul montello ai colli euganei, tradizionali mete dei ciclisti. Per sottrarre le biciclette si fingevano a loro volta ciclisti. L'indagine era partita a seguito del ritrovamento di due bici rubate nel bagaglieio di un'auto lungo l'A4 sul passante in aprile, recuperata refurtiva per 25.000 euro.